No, mi sono scopriamo, io ho detto, per un gruppo mediano, io ho detto, e sono un'anniversità, ci sono scopriamo, io ho detto, chiamo il pochino, un po' via già, un'ispera di stare, contando, perché è stato un grande giallo, e dopo non mi è mi chiede, non sarà un'ispera di stare, un'ispera di stare, un'ispera di stare. A presto, a presto.